Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 tratto chiuso per lavori tra Aglio e Rioveggio in entrambe le direzioni. Sempre in A1 è prevista neve tra Sasson Marconi e Calenzano Sesto Fiorentino, sulla variante di Valico e nel tratto tra Firenze Sud e Fabro. In FIPL per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone sono possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Cinestra Fiorentina in entrambe le direzioni. In conseguenza dell'emergenza sanitaria del coronavirus, nell'ottica di porre un limite ai contagi, raccomandiamo a tutte le persone di limitare, ove possibile, gli spostamenti ai casi strettamente necessari secondo le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!